ehi ragazzi ciao nicchè bentornati qua su gta5 per pc e con le mod ragazzi come vedete oggi ho messo la facecam perché perché fuori c'è fresco oggi ha piovuto ha fatto tuoni lampi fulmini ma nicchè non gliene frega niente perché ha tenuto il pc dalla corrente staccato ma speriamo che mentre registro non succede così il microfono mi scusi per averla toccato dico speriamo che oggi non succede niente ragazzi cioè al momento che registro quindi ragazzi oggi siamo qui su gta5 ha messo la facecam perché c'è un po di fresco ma che cacchio sto microfono sta un po fermo quindi volevo dire siamo oggi qui su gta5 per pc abbiamo la bmw 525 della polizia italiana oltretutto salve signor ciclista ti piace piace ma me sembri uno che ho visto da qualche parte non mi ricordo dove però boh ma è comunque allora vi faccio vedere la macchina ragazzi della polizia italiana 113 euro non si scherza ok chi è questa che urla e che cacchio fatelo più piano se dovete farlo ok vi faccio un po vedere ragazzi la bmw bmw a breve occhiata perché tra poco sicuramente ricevo una chiamata io vado subito ma appunto dai me la farò vedere mentre giochiamo dai tanto alla fine penso che in strada ne vedete tante ma che la polizia è che allora che abbiamo dentro abbiamo ragazzi la telecamera così che non ci sfugge niente e qui abbiamo una specie di monitor ma è comunque tutta estetica nulla di vero per quanto ci riguarda a noi bene possiamo spegnere i lampeggianti che tanto non servono a niente al momento e possiamo partire quasi quasi sai che ti dico c'è sto tizio che ferma in mezza strada non c'è perché ma io faccio un controllo bellezio fermati che ci fa in mezza strada fermo dai ma devi spiegare ok benissimo partiamo subito con un controllo al bagagliaio vediamo se trasporta qualche cosa di illegale avanti cerchiamo 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 finelle basta basta questo signorina questo tizio qua poi va bene signorina si è già guardate guardate lui che tiene la mano nella pistola qualcosa non quadrano già il poliziotto ha capito tutto già visto la mano nella fondina scusate allora per favore signorina esca dal veicolo allora per favore metta le mani sopra la testa la devo dichiarare in arresto cacchio quello che scappa quello che scappa rinforzi 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 questo vuol scappare ecco il colpevole degli spinelli mette le mani in alto ti dichiaro in arresto scappa la signorina però inginocchiati immediatamente pezzi con noto inginocchiati arrestiamolo arrivano altri volanti alzati 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 vieni 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 chiamano pia la tua ragazza o tre ore per venire e al pietro mi andiamo ragazzi dobbiamo via la ragazza che sta scappando sportello perché non l'hai chiuso sportello pagato perfetto abbiamo lo sportello pagato quanto ci godo che t'ho presa brutta disgraziata polis polis e' morta che famiglia per i evidentemente è un attacco di cuore causato dal mio taser può essere e chi lo sa io non lo so comunque lo sportello perché non si chiude è brutto abbiamo trovato un bug in questa auto ragazzi uno sportello che non si chiude ah ok non si apre manco questo vediamo se possiamo fare qualche cosa così ecco almeno ma mai ragazzi insomma dobbiamo portare ok una chiamata andiamo 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 ok con ninty nine con ninty nine oh mio dio a casa ho scassato la macchina tutto a posto lì dietro scappa di qua scappa di qua scappa di qua moviamo 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 ho scassato già la macchina dove va a sinistra no ok ragazzi vi ricordate di che chiamo tanti rinforzi tra poco faccio la sciaccia del gioco oh devo fare zitti zatti in mezzo a sbirrimo dove eccola sospetti mette le mani in alto dove è l'altro dove è l'altro arrendete ti dichiaravo in arresto ancora vivo è è morto credo non lo so momento c'è un altro tizio che scappa ragazzi andiamo 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 mi hanno scassato la macchina perché perché ai ragazzi è vicino tutti alla rincorsi tutta la rincorsa dove 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 chi è questo no sono qua su qua su qua su qua perché vi uscite qua mettete le mani per in vista vi dichiaravo in arresto tutto a posto qui dietro ti posso accompagnare in centrale amico no no possono ragazzi portarlo in centrale sto tizio finalmente ok ragazzi ci siamo siamo arrivati in centrale dobbiamo sganciare sto tizio e devo anche cambiare l'auto perché questa non ne può più mi aprite sta povera macchina ragazzi è completamente scasseita l'ho scassata tutta insomma avanti ti do a questo simpatico tizio che ti vuole tanto bene guarda oh fermiamo il tizio che è la 126 bellezio dai tu che sei con un'auto parecchio sospetta ok così ti vuoi fermare qua va bene allora sospetto ti faccio un controllo al vano motore qua insomma stai controllando la macchina della polizia o la sua di macchina attrezzatura da scasso spero che l'ha trovata nella macchina del tizio però spero che non l'ha trovata nella bmw vabbè con sta faccia veramente questo è uno scassinatore veramente appoggia che me fissi così me fai antipatia guarda dunque guardate il poliziotto giacca la mano nella fondina come dire moto e sparo se non esci capito va bene allora le chiedo di uscire dal veicolo benissimo dunque madafaka a me ok dimmelo un'altra volta madafaka prova dimmelo un'altra volta madafaka capiste? in ginocchio ti dichiaro in arresto ok arrestiamo sto disgraziato ladro benissimo intanto ragazzi chiamo un carro attrezzi per portarsi sta macchina allora centrale mi serve un carro attrezzi per favore grazie arrivederci e buona giornata andava bene ecco il carro attrezzi ragazzi che sta arrivando speriamo che non rimani intrappolato in mezzo al traffico eccolo che arriva si pia sta benetta macchina intanto io mi posso pia sto tizio no vai ok ai 126 se ne va allora forza sotto a bordo e non farò il fubbo dai oi dove cacchio va? salta a bordo vabbè sarà un bug non lo so mo cerco di salire io teoricamente forza sotto andando la macchina e behave ok oh che cacchio vuoi tu camminiamo oggi ragazzi che sportelli aperti ok perché fa caldo in città oddio mio questo è un bug un po' bruttino e va bene comunque consegniamo sto scassinatore alla centrale che ci penseranno loro a lui cacchio guardi tu in alto centrale ecco qua il tizio simpaticissimo devo dire con la 126 che andava a scassinare le case lo sbiro va ok dov'è? strawberry strawberry se parte se parte all unit response ok 10-4 copy that in Vanessa dove sta Vanessa? chi è Vanessa? in Vanessa? vabbè andiamo in Vanessa andiamo wow pazza ragazzi wow 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 ok ok wow guarda cosa un momento dove cacchio è? ops dove sta? dove sta? panza aiii a me non me frega niente io faccio i salti mortali per pigliarti disgraziati ok allora chiamiamo renfozi stavolta facciamo state patrol oh cacchio in acqua no ok dove sta? oh mi sta scappando va fai furbo ok qua dietro qua dietro qua dietro e qua dietro ah questi sono quelli che sparano un momento un momento un momento che miseria se v'è pio andiamo 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 che scappano andiamo che scappano oh state patrol sono quelli con la moto ok o comunque ho chiamato ho chiamato ragazzi quelli con i lanciamissili ho chiamato gli elicotteri con i lanciamissili quindi sono cavoli loro eccoli là oh cominciano a sparare i colleghi chiamiamo un altro po' di rinforzi ah facciamo SWAT oh no hanno ammazzato un spirro oddio guardate come sparano gli elicotteri ecco la SWAT oh mi devo allontanare che gli elicotteri sparano metti le mani bene in vista urca mettile le mani in alto tutto fatto tutto risolto ragazzi credo che è tutto a posto vabbè ce l'abbiamo mamma cos'è successo ho gli occhi chiusi non voglio guardare ma che cacchio dai signora ti è a posto collega non mangiare la magnotta che cacchio ti sta mangiando ok ragazzi è arrivata una bella chiamata la pigliamo la pigliamo la pigliamo let's go vai 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 si va si va si va pigliamo un altro po' di tizi che gli vanno dietro facciamo allora SWAT local patrol news vai 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 Vanessa vai ok ragazzi ti ho chiamato mezzo mondo per pigliare stato disgraziato fermati RFD ehi ecce con il nodo fermati ci siamo ci siamo scende il veicolo forse che pigliamo forse che pigliamo dai dove cacchio vuole tannare 16 guardate arrantatevi scendete dal veicolo io voglio sparare in testa raga che pensano loro oddio oh oddio dispetto tutto a posto pompieri a mia macchina ancora viva e miracolo viva e viva e viva e viva altra chiamata forza andiamo andiamo ragazzi andiamo 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 con 99 lo scassato la macchina in ok cacchio combina sta macchina oh ah ma tanto il tizio scendo ok passerà di qua no let's go let's go let's go let's go chiamano rinforzi rinforzi basta penso che potrebbero essere sufficienti oh questo spara oh mio dio oh mio dio oh mio dio cacchio stavolta veramente piovono elicotteri è crashata il gioco yeah non ce l'ha fatta più non ce l'ha fatta più l'ho mandato in crisi ho mandato un gta5 in crisi tutto adios amigos così dice il gioco vabbè ragazzi dai inutile che riavvio perché tanto eravamo comunque arrivati bene o male alla fine direi che la prossima volta chiamo meno rinforzi perché se no qua mi sa che vabbè comunque ragazzi io spero che questo gameplay vi sia piaciuto scusate lo schermo nero ma dovete sapere che la scritta rossa che vedete non la metto mentre edito ma la metto proprio adesso mentre parlo compare quindi è sparito per quello il gioco quindi ragazzi spero che questo gameplay vi sia piaciuto come sempre vi lascerò in descrizione il link per scaricare la bmw 525 della polizia in più mi raccomando commentate iscrivetevi lasciate un bel mi piace se questo gameplay vi è piaciuto mi dispiace che ci lasciamo con un crash però beh me lo sono meritato con tutte le chiamate di elicotteri che ho fatto va bene ragazzi vi saluto ciao alla prossima ciao